incredibilmente continua a funzionare tutto buonasera ragazzo che problemi già non ti funziona un cazzo che succede tutto simone 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 dice questi lamentava funziona tutto ho detto io per ora vedere lo sguardo lo sguardo terrorizzato di simone per chi ha paura che ci sia qualcosa che non funziona e lui non se ne accorta quindi è tipo terrorizzato ti preoccupare simone funziona tutto buonasera ragazzi benvenuti a questa nuova puntata di era meglio live con gianni perché questa puntata di era meglio live soprattutto perché stasera perché ieri era festa e perché ieri era festa e quindi siamo questa sera perché venerdì scorso uscita la puntata di era meglio prima con adriano santucci dove si parlava di jurassic park quindi si spilberg del 1993 1993 e quindi stasera dato che gianni ha già cicciato fuori questa sceneggiatura no questa idea iniziale di quello che dovesse jurassic park siamo in compagnia ovviamente sempre in gianni dell'ottimo incredibile e da poco più amato di tutti all'interno della slim dogs tommaso renzoni che uno sceneggiatore vero e di simone che adesso poi mandiamo via perché lui disegna sapete benissimo come funziona durante i video di gianni ci sono tutti gli sketch eccetera che simone realizza per raccontare graficamente quello che questa sceneggiatura che trova fuori gianni questa sera primo aspetta io ne posso far vedere uno che mi ha fatto proprio impazzire i valori di ringrazio lo vedere fa vedere perché sei pazzesco ogni volta grazie gianni lo voglio far vedere e voglio far vedere questo disegno e non un altro perché so che questo disegno ecco gianni mentre che diceva tutto una serie di cazzate è andato in palla benissimo quindi no primo sai cos'è quella ip incredibile no devo fare vedere questa cotta e poi capì esatto esatto e poi grascia tutto quindi quando gianni si riacchiapperà forse bello che ci siamo presa per due ore con la connessione di tommaso che non funzionava e invece non funziona già la rivincita dei boomer esatto gianni se riattacchi limite adesso sì ok non so che cosa sia successo c'è stato un attimo di panico nel mio computer perché non è un mac fai vedere è ovviamente sei pure laggando per vedere questa questa foto oppure laggando gianni esci e rientra esci e rientra famo prima danni esci danni mai perfetto allora speriamo che non rientri però ho detto un nuovo lavoro gianni love povero gianni rivede la gianni in chat rega quindi questa sera ecco dire adesso sì adesso sì ci sei è stato un momento di panico nel mio facci vedere sul disegno vi faccio vedere questo disegno ma chi è pazzesco è pazzesco questo disegno perché se avete visto il video di era meglio prima su youtube capirete questo disegno avanti ci torniamo perché secondo me io ho avanti ci torniamo perché secondo me io ho avanti ci stanno cercando perché io ho capito che per fare contento gianni in basta mettere un elemento di spiderman sopra qualunque cosa cioè se tu disegni se tu dovessi disegnare un pene gigante però per dire se tu dovessi disegnare un pene gigante e copri con con la maschera di spiderman va bene no 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 niente beni grazie non ci deve quindi andiamo avanti stasera praticamente ragazzi come vedete non ci abbiamo l'ospite speciale che adriano santucci perché ci stiamo finendo di preparare per il cortometraggio vi ricordo che la live per le riprese di nostos ce ne sono due una sabato e una domenica da mezzogiorno fino a quando non esplode il set io e gianni saremo in live direttamente dallo studio marco cioni farà la parte dell'inviato che andrà a rompere scatole alle varie persone singoli reparti e voi in chat ci farete tutta una serie di domande tutta una serie di cose per cui poi romperemo le palle al buon marco cioni che andrà in giro appunto come dicevo prima detto questo quindi saremo con simone e tommaso simone di là a fare i disegnetti simone tu sai come al solito aspetti un pochino noi ti diamo le varie informazioni tanto tu ci senti ogni tanto ti tiriamo su e ci fai sentirci fai vedere quello che stai facendo quindi detto questo ti salutiamo io ho anni a dopo buon lavoro grazie simone ma prima del primo prima di iniziare si avrà un piccolo recap su quello di cui abbiamo parlato in questo video volevo ricordarmi lo sponsor che sta pubblicizzate che ci sta aiutando in questo guardato ma guarda come è non viene va dai già continuo a continuare a continuare a imparare allora non fa la storia brevemente che cos'è nordvpn ecco che cos'è la storia tubarla che cosa è questo nordvpn nordvpn è una virtual private network ovvero un sconda il vostro ip e di potervi collegare praticamente da tutta da tutto il mondo in questa maniera voi potete accedere a cataloghi di siti stream pazzeschi per esempio non so se lo sapete ma a breve uscirà spider man no way home e se una persona si vuole fare la maratona di tutti gli altri spider man che non può trovare in italia perché alcuni stanno su netflix poi ce n'è uno su prime altri non ci sono proprio usando nordvpn per esempio collegandovi con disney plus in america potete guardarvi tutti gli spider man dal primo di toby maguire fino a far from home che è l'ultimo conto mollard ma non solo per esempio il professore che ha una connessione un po altalenante ogni tanto se fai nordvpn tommaso sì sì tu hai un boost anche per la velocità di connessione di rete posso dire senza così queste queste parole da boomer io sono già cliente di nordvpn da parecchio vedi vedi però se utilizzate il nostro codice sconto windows film avrete il 73 per cento di sconto su piano biennale qui io non ve lo lanciamo lì chiedono se te la sei scritta no ragazzi non sei la scritta l'ha imparata l'ha imparata a memoria con i bravi studenti bravo gianni bravo bravo quindi dicevo stasera si parla di giurassic park le geni stile spilberg 1993 il film tratto da un libro di un certo michael crittono craikton noso quello l'ha schiattato qualche anno fa se non sbaglio è morto purello un paio d'anni fa lui fece questa diciamo scrisse questo libro da cui ti dirò fuori una micro sceneggiatura andò da stile spilberg che già conosceva gli 60 siccome c'è le pezze al culo non è che mi compri l'adattamento cinematografico cioè mi compri i diritti per poterne fare il film si spilberg disse dinosauri cose da io te li compro bene spilberg compro i diritti dopo qualche anno crittono craikton andò lì e di 60 io c'ho anche una sceneggiatura e la sceneggiatura è quella che di cui gianni ha parlato già nel video quella di crackton è quella che cerchiamo di analizzare un pochino più approfonditamente questa sera prego tra parentesi tra parentesi voglio dirvi sapete che in realtà steven spilberg e michael critton si conoscevano da prima e ho detto poco fa gianni è ma non sai che cosa aveva scritto critton per spilberg questo no questo una sceneggiatura chiamata eh emergency room oh be damace che ti ricorda qualcosa prof emergency room e r i r i r lui ha scritto i r insieme a steven spilberg e per questo volevo che ci arrivassi tu ma è incredibile ma c'è una cosa allora io conosco benino si spilberg non conosco così bene tutto quello che ha fatto anche perché è impossibile ma c'è una cosa nel cinema dagli anni 70 ora in televisione dagli anni 70 ora e nei videogiochi dagli anni non 70 diciamo 80 ora dove spilberg non ci ha messo le mani e allucinato ha messo le mani dappertutto per cristiano fra l'altro poi entriamo sono uscite le recensioni di west side story film che deve uscire questo natale in steven spilberg al cinema e parlano di capolavoro assoluto non vedo l'ora basta mi sto zitto quindi gianni come allora brevemente che cosa abbiamo analizzato nel video abbiamo visto questa prima versione molto più dark c'era una prima scena che era in realtà che fu ripresa poi un po nel secondo capitolo di jurassic park quindi il mondo perduto e che vedeva praticamente una bambina che veniva mangiata da un vero e proprio veloci l'atto era l'inizio di questo e va bene e se capire capire si sono quelle cose se vedete più o meno questa scena qui me la potrebbe ricordare questo è l'inizio del secondo è l'inizio del secondo è praticamente questa questa scena qui solo che qui ci sono i corno non mi ricordo come si chiamano e più o meno però era questa la situazione la differenza è che era tutto a favore di camera e lei andava a finire proprio in ospedale ed era proprio tramite a questo questo attacco da a questa bambina che si trovava nel costa rica ricordiamo questa cosa quindi non nell'isola del giurassic l'isla sono nel costa rica no quella si chiama la nulla allora nublar 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 e in seguito a questo attacco in realtà alan grant veniva alla conoscenza della di questi dinosauri che erano stati avvissati appunto nel costa rica infatti la particolarità della sceneggiatura di kraton diciamo è che era anche un po più come posso dirti oltre ad essere più dark voleva essere anche voleva inglobare questi dinosauri voleva già portarli nel mondo quindi non voleva rinchiuderli semplicemente nell'isola ma c'era infatti questo pure abbiamo visto nel video il momento in cui nedri prende gli embrioni e quindi stacca la corrente dopodiché poi si libera questo pazzesco tirannosauro neve riusciva a consegnare gli embrioni alla nave ma mentre la nave andava via c'erano questi veloci raptor e per questo abbiamo visto questo storyboard che aveva fatto prima vignoni con spider man che si arrampicavano sulla nave la prendevano da salto quindi era una cosa molto molto strana però allo stesso tempo interessante c'era poi una cosa pazzesca che naturalmente è stata tagliata per un mancanza di budget perché era una cosa impossibile da fare cioè questo inseguimento in acqua con questo tirannosauro gigantesco che diventava una sorta di squalo che cercava di uccidere alan e i bambini che si trovavano su una zattera ma la cosa secondo me più interessante che è un po stata tagliata nel video ma poteva essere compresa da tutti è che in realtà il cattivo della storia era ammond john ammond il cattore di jurassic park era lui il vero proprio cattivo perché nel film noi lo vediamo un po come il nonno buono che fa questo che fa questo parco quasi per per i bambini per per il per amore proprio degli animali e per farli conoscere ai bambini c'è tutto l'aneddoto che lui parla molto bello quel pezzettino del film dove lui parla del circo delle pulci che era il primo diciamo la prima attrazione che aveva creato eccetera racconta sta storia diceva che con questo parco voleva creare una cosa che non fosse un'illusione ma qualcosa di vero esatto questa scena qua è quella del circo delle pulci quando tutto sta crollando adesso poi so che c'è un termine tecnico sceneggiatura per spiegare sta scena però è proprio il punto di non ritorno quasi questo no in generale e giovanni bravo vedi che allora è entrata qualcosa ragazzi scusate c'è sempre qua qualcosa devo aver preso e c'è questa scena è bellissima di questo dialogo e poi c'è tutta la parte finale succede un casino e quindi lui in realtà era molto attaccato ai dinosauri e non voleva per nulla sacrificarli ecco anzi preferiva quasi sacrificare di più le vite di queste persone che erano venute a trovare il parco piuttosto che queste sue creazioni perché li vedeva quasi come dei veri e propri figli e questo è poi molto bello a livello di personaggio perché vedeva i figli qualcosa che aveva creato lui come quasi una divinità ma che non avevano un vero e proprio legame di sangue con lui mentre i nipoti che avevano un legame di sangue con lui non li vedeva effettivamente come persone da volere bene fin quando poi alla fine effettivamente decideva di sacrificarsi per questi nipoti adesso volevo parlare un po di una struttura visto che qui abbiamo trattato vari tipi di struttura all'interno di questo format oggi facciamo una struttura un po diversa perché credo che sia arrivato il momento di trattare questa struttura secondo me in giurasi park può essere anche interessante vederla e di vado infatti anzi vi lascio parlare il mio prof della struttura a cinque atti partendo da questo gianni stai scorreggiando e ti senti a scacchi quindi a scacchi a scacchi a scacchi a scacchi mi senti io sono connesso tramite ethernet giovanni non lo so vabbè recupereremo e quindi c'è già da cinque atti la prima volta che la vediamo qua dentro se non sbaglio è chiaro che non deve spaventare è perché la scelta dura cinque atti spaventa è una chiaramente come diceva come facciamo i tre atti facciamo i quattro atti ancora ancora ti seguo sui cinque atti cominciamo a complicare la vita però in realtà la sceneggiatura cinque atti è una sceneggiatura che deriva e infatti non è un caso che si utilizza per giurasi park perché deriva da quello che è appunto shakespeare e siccome giurasi park e profondamente faccio vedere cesperiano è profondamente infatti appunto qui ce l'abbiamo su macbeth e profondamente cesperiano perché perché in qualche modo adesso diciamo delle cose mamma mia noiosissime come estremamente complicate però non lo sono no non lo sono in realtà non lo sono è molto interessante allora tutta una parte diciamo del teatro e shakespeare è l'espressione più più forte parla del cosiddetto diciamo da una parte del delitto contro natura e giurasi park è l'estremo del delitto contro natura macbeth è il delitto contro natura anche la tempesta in qualche modo parla il rapporto con la natura quindi noi stiamo parlando effettivamente a tutti gli effetti di qualcuno che che prende se stesso e e si assur si arroga il diritto di essere dio e ogni volta dice shakespeare che facciamo cosa del genere compiamo un delitto contro natura quindi che succede in macbeth perché giustamente non ne avrete ma che molti di voi magari non sanno che succede succede che in macbeth questo guerriero che è un sicuramente un conto anni la metto giù un attimo in qualche modo in qualche modo un conte e viene vince una battaglia viene incontra delle streghe che gli dicono sarai di fatto in questo pensiero lo porta a commettere un atto atroce come l'uccisione insomma del del re del trono per poter diventa esatto per poter diventare l'uccisione del re per diventare re quindi un delitto contro natura ricreare dinosauri è un delitto contro natura in qualche modo nel senso che andando contro l'evoluzione diventando tra l'altro gianni mi ha ricordato oggi non dire macbeth è sì perché dice che porta sfiga dire c'è un sacco di gente al mondo dello spettacolo che quando deve parlare i sceglie dice a quella roba lì dove ammazzano un re per giusto per non dire il titolo sentito questa cosa diverso tempo fa da mio zio che quindi no volevo dire che una cosa che mi ha risvegliato in realtà il tuo racconto della prima versione questa versione in cui dici non ci tiene tanto in quanto tiene più i nipoti che i figli in qualche modo mi ha ricordato che ne pedino sauriche nipoti tiene più di una storia nipoti quindi ai suoi figli diciamo non generati in qualche modo più mi ha ricordato poi il mito la teogonia di urano che in qualche modo mette al mondo crono e poi crono esatto lo depotenza in qualche modo uso termini polite diciamo perché la scena della depotenziazione di urano è un po più pesante e poi si può dire dai si può dire allora lo evira e poi crono chiaramente al problema della profezia per cui qualcuno lo rimpiazzerà e di lì poi appunto nasce zeus quindi in qualche modo siamo in un ambito che mitopoietico come sempre tornando a noi mi rimettimi quella quella bellissima eccola qua cinque atti no l'altra ok la gianni è più ok esatto cos'è la struttura di cinque atti in realtà come vediamo ogni volta che noi affrontiamo una nuova struttura che sia in sei atti in tre atti in quattro atti cinque atti ci aiuta sempre e per questo infatti continuo insistere che il mit point è il mio punto proprio preferito perché il mit point è quello che ci guida sempre alla fine c'è un mit point nei tre atti c'è un mit point nei quattro atti c'è un mito nei cinque atti sulla base di quello noi ci in qualche modo ci regoliamo no quindi che vediamo vediamo che il mit point che noi sappiamo che nei tre atti è a metà del del secondo atto no quindi qui in qualche modo è come se noi dicessimo che atto 2 atto 3 e atto 4 compongono nella struttura a tre atti il secondo atto in qualche in qualche forma quindi noi abbiamo un atto 1 in cui arriva appunto una chiamata all'azione che possiamo chiamare incidente scatenante che possiamo chiamare analizzatore catalizzatore come come dice black snyder ho chiamato all'avventura come dice nel caso di jurassic park quando john ammond arriva da alan grant è lì e gli dice io ho fatto il parco con i dinosauri ho bisogno di voi venite là giusto la questione che è differente esatto la questione differente rispetto al in realtà è mista la cosa perché nella sceneggiatura originale è che prevede la situazione dove appunto la bambina viene morsa dalla ok dalla lucertola la chiamata all'azione è il fatto che esiste un qualcosa che disturba il mondo ordinario quindi che in realtà qualcosa sta avvenendo poi ovviamente si configura in tre passi no nella sceneggiatura originale c'è di quella diciamo non prodotta c'è il fatto che poi qualcuno pensa forse questa questa bambina è stata morsa da una strada lucertola quella lucertola rifacciamo la lastra chiamiamo una persona quindi diciamo in qualche modo il disturbo nel mondo ordinario è molto più simile allo squalo come tipo di ok di aspetto cioè c'è una minaccia che minaccia il nostro mondo una cosa interessante nell'ambito della sceneggiatura in cinque atti è questa questione tratto 2 atto 3 perché poi tratto 4 atto 5 siamo di nuovo più in un ambito più simile altre strutture che abbiamo visto e questa questione dell'atto 2 prevede che ed è in qualche modo un surrogato sia del viaggio dell'eroe che della struttura in tre atti che abbiamo visto prevede che nell'atto 2 noi vediamo come una volta accettata quella chiamata una volta entrati in questo mondo straordinario noi raggiungiamo un obiettivo iniziale quindi qualche modo c'è una un'anticipazione di quello che potrebbe sembrare un gianni ovviamente che partecipa quella che è un po la falsa vittoria per un esempio concreto che conosciamo per esempio un esempio concreto è il momento in cui loro effettivamente scoprono e vedono il i dinosauri e quindi c'è il momento del triceratopo ecco quello è il momento del triceratopo ok quindi loro si avvicinano che c'è la triceratopo malata e loro scenno la braccia non è tutto ok il midpoint vero e proprio di jurassic park e la scena emblematica del t-rex perché c'è nedri che consapevolmente lui nonostante sappia che sta le macchine stanno vicino alla gabbia del t-rex e quindi disattivando in quel momento la corrente potrebbe metterli in pericolo non gliene frega anche il punto di non ritorno dall'inpo infatti la situazione degenerà degenera sempre l'obiettivo iniziale raggiunto è quello di scoprire e conoscere i dinosauri infatti è molto bello in jurassic park proprio la scena che c'è è lì che cerca di capire che cosa possa avere questo questo triceratopo mentre ci sta il dottore come si chiama alan grant che inizia ad abbracciarlo eccolo qua c'è lui che si mette sulla pancia inizia ad abbracciarlo proprio come un bambino e sembra che effettivamente il parco sia perfetto sia qualche sia proprio l'obiettivo iniziale raggiunto sia la la falsa vittoria che poi arriverà con che poi si sgretolerà con il midpoint vero e proprio guarda caso proprio all'interno del film possiamo capire che siamo quasi a metà e il midpoint cade perfettamente a metà quindi tu dici infatti un dato importante sulla sceneggiatura sul sul film giurasi park diciamo perché a questa che è uno dei motivi per cui io credo sia rimasto un film così iconico è perché poteva essere un horror che nelle nelle premesse di fatto è un horror insomma beh c'è una minaccia o qualcosa che si viene liberato un uno scienziato pazzo che l'ha messo che che a cui sfugge di un esperimento diciamo in qualche modo cioè siamo nell'ambito di quello che è eppure ne fa in realtà un racconto che dell'oro non ha nulla quindi qualche modo stiamo l'ago io gianni no no gianni si è bloccato completamente io spero che lui aspetta gianni chiudi chrome e riaprilo non ricarica chiudi proprio chrome gianni non ha enormi pieni no non ce l'ha gianni chiudi chrome e riaprilo esci chiudi e si totalmente chiudilo e riaprilo perché sennò fra un pochino vai di nuovo ok quindi però quindi diceva in realtà giurasi park il motivo per cui è così iconico è che è una commissione di generi cioè è un film da un certo punto di vista diciamo anche per famiglie nel senso che è un film come dire che archi di personaggi no non lo è da un punto di site target però dal punto di vista di idee editoriale è un è un film che abbraccia tutti in qualche modo però con una sottotrama e anche parecchio forte che è oro quindi se mi intrigava in questo senso la prima versione la prima stesura del copione perché la prima stesura del copione risponde molto di più al canoni del genere horror dove se c'è un mostro liberato e qualche modo appunto abbiamo subito perché c'è la scena della bambina di cui parlavamo perché c'è perché quella scena lì è la scena in cui vediamo un personaggio che viene morso dal mostro qualche modo cioè quindi vediamo i danni potenziali che può procurare questo mostro questo tipo di teaser è un teaser horror e non è un teaser come dire è la scena d'apertura di di snyder che fa il setup e quindi ti fa capire subito immediatamente a che cosa ci stiamo riferendo noi mostriamo una minaccia nei termini in cui questa minaccia può uccidere la prima il primo film horror che mi viene in mente oddio un po un po così un po slash e scream che no che tu subito all'inizio vedi ghost face che ammazza drew barry morfano anche soltanto a get out esatto o a profondo rosso noi vediamo come la minaccia può veramente essere una minaccia e questo serve a settare è come il tema in orchestra no serve a settare subito quale sarà di queste cose no però serve a settare cosa serve a settare che siamo in un mondo dove dove si muore dove si rischia dove c'è una minaccia evidente ora qual è la reazione tipica nell'horror e per questo è differente dalla struttura cinque atti la in qualche modo la versione originale perché noi nella versione diciamo c'è una minaccia questa minaccia morde uccide il resto del mondo non legge la minaccia ma il nostro eroe barra i nostri noi sì questo è la base dell'oro cioè qualcosa non va però alcuni si rendono conto che questa cosa non va altri in altri è un classico di tutti quanti loro scream ma anche banalmente la sottotrama oro di stranger teams appoggia sullo stesso concetto cioè ogni volta che noi mettiamo in campo che qualcosa non va ma solo alcuni se ne rendono conto qualcosa non va ovviamente qualcosa uccide ma solo alcuni si rendono conto che cosa uccide siamo nell'ambito dell'oro in jurassic park nel nel cambiamento no di quello della messa in scena che c'è non abbiamo più la questione un mostro è libero e quindi qualcuno ha commesso un delitto contro natura tra virgolette per cui quel mostro è liberato e quindi qualcuno appunto l'arco del del creatore no del del dio che vuole che poi appunto rischierà vedremo come dovrà sacrificarsi no in questo modo cambiando il paradigma con è un mondo straordinario improvvisamente ricambiamo riparare questo è molto interessante perché tra tutti i film che abbiamo analizzato forse è quello che ha più un cambio di esatto perché invece di avere un cambio di paradigma limitato alla questione produttiva o di appunto scena è più forte più spinto e meno spinto questo è un cambio di paradigma che sta alla base cioè noi partiamo da un horror è come se a voi chiedessero dire e se facessimo scream per famiglie capito invece di partire con quello partiremo con una serie di magari non lo so dovremmo stabilire qual è il mondo straordinario nel quale scream si può già per garantire all'autore di entrare dalla spettatore quindi all'autore di entrare dentro a quel mondo progressivamente e infatti non è un caso che a quel punto entrano scene come accarezzo il triceratomo perché improvvisamente dobbiamo calcolare che siamo sull'isola fantastica dove qualcuno sta sta muovendo dei fili e poi gli sfuggerà paradossalmente il midpoint di sono del gianni aiutami comunque la scena del del t-rex sì che più o meno mi poi ti sbaglio si è proprio a metà del film il midpoint di Jurassic Park di fatto è come se fosse l'incidente scatenante di Jurassic Park di prima versione in qualche modo i mostri sono già liberi mentre da noi il punto di non ritorno è quando questi mostri perdono cioè quando prendiamo il controllo sui mostri che nel momento in cui la tecnologia in questo caso crolla anche se dall'inizio del film in realtà c'è una scena perché il film si apre proprio con uno di questi inservienti che viene che viene assalito e viene ucciso non lo vediamo ce lo racconto c'è esatto non lo vediamo lo percepiamo all'inizio del film e poi ce lo dicono che ce lo dice chiaramente john ammond quando appunto va da lang da alan ed elli che dice che è successa questa cosa e però c'è bisogno di lui è un cambio tematico e paradigmatico molto sottile ma ma che poi riverbera e cambia il film parecchio cioè un conto è il controllo sulla natura quindi appunto io riesco a controllare la natura a fare un parco a poter far godere le persone di un qualcosa che è incredibilmente come dire impossibile da vedere però perché io in quanto uomo sono dio tra virgolette quindi riesco a tenere tutto sotto controllo quindi che ha a che fare col controllo e quindi quando perdo il controllo anche un po la questione dire io volevo solo fare del bene e un altro è che se alteriamo la natura produciamo dei nostri che quindi parte da un concetto dove i mostri già esistono il fatto di far mangiare una bambina voglio dire è un emblematico perché il bambino e l'essere per eccellenza più innocuo del nodo è un film con questi dinosauri che questo dinosauro che mangia questa bambina e si doveva vedere a favore di camera proprio che andava a destabilizzare sin da subito come posso dirti e quindi ti approcciava in una maniera completamente diversa all'intero all'intero film ok invece loro vabbè poi in giurarsi park decidono di fare complet prendere completamente un'altra strada poi se ci pensi in realtà è una cosa molto interessante quella che è accaduto adesso il professore è una cosa molto interessante perché effettivamente se ci ragionate quanto può cambiare una storia cambiando il paradigma sta tutto nel pitch perché se ci fate caso pensiamo a qualsiasi le trame sconclusionati o di base le faccio un po partendo da questo cioè cerco di capire qual è un elemento fondante della storia e in base a quello io cerco di creare la trama se prendiamo se io vi racconto questa storia che ne so una ragazza bionda fa di tutto per scappare da una persona che lo insere con la maschera quindi che cosa succederebbe se una persona con la maschera va a uccidere le persone così di base capiamo sin da subito che onoro e facciamo questo tipo di pitch capendo effettivamente sin da subito il mondo che vogliamo andare a raccontare tutto il contrario se invece andiamo ad analizzare un'altra cosa cioè per esempio sempre prendendo la storia di scream anche quella di giurassic park quanto cambia se e se alcuni dinosauri riescono a sfuggire ad un parco e invadono una un'isola che cosa succederebbe questa è la domanda che magari si facevano si faceva cryton nella prima versione della sceneggiatura oppure se uno scienziato pazzo decide di creare questi esseri che è più quello secondo me il centro di giurassic park e il centro di giurassic park diciamo l'idea tutto la spiegazione di tutto si svolge nella scena del della della cena o del pranzo dove brb 989 ha citato dio crea dinosauri dio distrugge dinosauri dio crea l'uomo l'uomo distrugge dio l'uomo crea dinosauri dinosauri ma un giorno l'uomo la donna e redia la terra è tutto un giochino di parole che mi ha sempre fatto troppo ridere che loro però non fanno a cena ma fanno dentro la gip fanno sulla gip però dalla cena parte questo diciamo il tema del film è quello il discorso no viene viene buttato lì dove quando alan dice i dinosauri e l'uomo 22 specie completamente ha detto messe a una distanza di tempo incredibile con un'estinzione di mezzo a un certo punto si ritrovano buttati nella mischia che cazzo succede quello è un po secondo me la domanda che si fece gregton per cui poi è uscito fuori il tema del film di giurassic park che noi abbiamo visto è di base quello che dice proprio il personaggio di malcolm il dottor malcolm cioè il la teoria del caos stessa è quello il tema fondante del film di giurassic park proprio la teoria del caos cioè che cosa succederebbe se effettivamente noi cerchiamo di sostituirci a dio esatto è quello che fa john hammond ed è quello che provoca poi la delitto contro natura ed è esatto quindi andiamo avanti con la sceneggiatura io ragazzi mi prendo una banana che c'ho fame torno subito arrivo siamo arrivati al midpoint comunque troppo che tu ami tantissimo no è fondamentale nel point perché è fondamentale perché noi quando facciamo una sceneggiatura appunto il midpoint io insisto sempre è quello che dobbiamo avere per poter avere l'idea di controllo poi di una sceneggiatura perché il midpoint è il punto di non ritorno allora nel momento in cui noi vedete queste come sono scritti questi testi no in una piramide perché sono scritti così perché in qualche modo questa piramide è una specie di piramide da una parte tensiva cioè quindi della tensione del film dall'altra diciamo della dell'intensità in qualche modo quindi al di là della questione di tono dell'intensità degli eventi allora se noi veniamo chiamati all'azione ed è un punto più basso no è come se dividessimo gli atti in unità discrete di azione del personaggio cioè viene chiamato all'azione a questo punto decide chiaramente di partecipare del del film della della storia del mondo straordinario no fino ad ottenere l'obiettivo iniziale a midpoint succede che abbiamo una un reversal si dice in inglese cioè abbiamo un punto di volta dove improvvisamente gli eventi prendono un un turn diverso prendono una piega diversa perché avviene questo non avviene perché a noi sceneggiatori ci piace che a un certo punto a midpoint giriamo le questioni perché ci diverte il fatto è che quell'obiettivo iniziale gianni parlava di falsa vittoria quell'obiettivo iniziale non è l'obiettivo reale che è importante per la storia no che venga raggiunto dal protagonista quindi non avendo inseguito un obiettivo fallace a midpoint inizia appunto le cose si mettono male perché perché se io penso che se faccio una live su twitch otterrò non so cosa e allora ho una chiamata all'azione la possibilità di andare in live ho un obiettivo iniziale raggiunto vado in live e comincio a parlare ma a midpoint preso dall'idea di perché ho il problema di essere famoso mi sfoglio nudo in live perché non ho detto in altri termini le cose si mettono male in qualche modo in quello che noi costruiamo con con quando costruiamo una storia e per questo va interpretata la struttura in cinque atti che poi deriva anche appunto da da pause prima inizialmente teatrali e via dicendo come una specializzazione della struttura in tre atti quindi la struttura resta sempre una struttura dove di fatto abbiamo presentazione di un conflitto esposizione di un conflitto e risoluzione di un conflitto solo che questi tre atti questo atto 2 che dura tanto e che da quando facciamo queste live anche ci interroghiamo su ma quanto ma quanto lo faccio come lo lo tagliamo quest'atto 2 che allora una volta l'abbiamo tagliato in due metà che è comodo per la scrittura e ora lo tagliamo in tre ma di fatto quello che diciamo che sono tre unità discrete adesso non so gianni c'hai per caso il la tiramina lo no lo schema della della mappa di cambiamento dell'eroe aspetta te la trovo ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io poi gianni ricordati che abbiamo tutta la storia da fare i registi le cose e si si adesso lo facciamo volevo dire solo questa cosa se ci fate caso la struttura in tre atti è una struttura sicuramente la sua in cinque atti scusate è una struttura sicuramente molto teatrale ma è una struttura che è utilizzata molto in oriente se ci fate caso le storie orientali gianti che possono essere quelle dello studio ghibli lo stesso squid game per esempio ecco se prendete squid game si basa molto sulla struttura a cinque atti e lo potete notare perché il secondo atto classico della della nostra struttura è molto più ampio e contiene molte più cose pensate alla puntata uno di squid game per intenderci la chiamata all'azione è questo questa persona che viene chiamata per andare a giocare a squid game a squid game l'obiettivo iniziale raggiunto è quello di raggiungere questa cosa qui e di arrivare al momento del nascondino del gioco di nascondino e riuscire a farcela a superare quel gioco quindi sembra di aver che abbia raggiunto l'obiettivo quindi poi li ammazzano tutti poi sempre nella stessa puntata io vi sto dicendo c'è il momento del salvadanaio e lì loro sono chiamati a decidere se continuare o meno a giocare a squid game è quello il midpoint e infatti da lì in poi quella puntata si inclina fino a a che lui non decide di ritornare a giocare e quindi sì c'è questa vittoria o sconfitta che viene chiamata anche qui in questa struttura tommaso ha tirato fuori quella struttura che diceva prima sta con la rimettamento allora che cos'è questo questo è uno schema sempre dallo stesso testo che quello di york york viaggio del bosco drammaturgico scusate viaggio del bosco narrativo no sì perché a tradurlo ogni tanto faccio danni e che succede è uno schema in inglese che succede abbiamo vedete sul cerchio che è una figura che abbiamo usato spesso nessuna che vuol dire quello che vediamo nessuna conoscenza piano piano un po di conoscenza un risveglio il dubbio un po di riluttanza l'accettazione sperimentare con la conoscenza a sostanzialmente quello che abbiamo sono i passaggi non tanto di trama per questo si chiama dettagli roba change ma sono i passaggi di cambiamento del personaggio quindi il personaggio in una storia e questo ci aiuta nel vedere anche nell'ambito dei cinque atti come come si 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 snoda e per chi se lo chiedesse ripeto ogni film può essere diviso in tre atti in quattro atti in cinque atti poi come lo si scrive e cambia perché a livello di analisi teoricamente un film perfetto diciamo lo puoi dividere ugualmente e questo è il cambiamento del personaggio cioè un personaggio passa all'inizio che non ha conoscenza di ciò che deve che deve fare fino a un risveglio vedete nell'ambito della waking dell'awakening un passaggio al secondo atto con una serie di dubbi noi abbiamo parlato di rifiuto della chiamata abbiamo parlato di debate disputa per l'ex rider no quindi c'è un momento in cui non sappiamo bene cosa dobbiamo fare poi ovviamente appunto questo sono i vari passi no dubbio e dover sorpassare la riluttanza no poi l'accettazione quindi è come se il passaggio del lutto sembra esattamente sembrano gli stati di agitazione del lutto no dove c'è il parteggiamento dove c'è la rabbia il rifiuto quindi entriamo dentro al terzo atto abbiamo lo sperimentare con la conoscenza quindi abbiamo questo nuovo mondo in cui piano piano ci avviciniamo alla alla conoscenza e non parliamo della conoscenza dramatica ma la conoscenza qui è una piccola differenza esistono due trame contemporanee in un film una è la trama degli eventi e un'altra nella trama del della diciamo anzi scusate ho sbagliato si chiama trama proprio perché intreccia gli eventi con il cambiamento del personaggio quindi è una trama come quella di un tappeto quindi la trama è l'intrecciare questi due viaggi e uno di questi viaggi è quello del cambiamento no scopriamo sperimentiamo la conoscenza di ciò che abbiamo di nuovo fino a una conoscenza chiave poi un di nuovo uno sperimentare con grazie alla conoscenza chiave di nuovo dubbio di nuovo modalità di una modalità di crescita e di riluttanza una regressione perché abbiamo paura di cambiare quindi c'è sempre un momento io cito sempre le rom com perché è dove facile vedere il personaggio e si preparano il personaggio cioè il momento in cui prima di fare un grande salto si fa un passo indietro si dice no e poi si salta e poi il risveglio di nuovo l'accettazione e poi il total mastery è la conoscenza della in qualche modo della materia che è la materia del cambiamento quindi quando parliamo di cinque atti e giovanni scusami so che sono turbo noioso però no 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 c'è turbo noioso la cosa più fai pesca le delle santissi io anche imparato io l'hai cazzo ma no è che tutti tagliamo più nello specifico dai tre a te cinque più quando sono dei cinque tutto più però devi sapere quando abbiamo visto dune con marco cioni c'era marco cioni accanto a me che mi dicevamo allora qua questo è il midpoint gianni scusami non ho questa è una cosa bellissima perché capire la struttura di una storia ti fa anche comprendere meglio un film cosa che magari prima da vivere semplicemente per scontate allora io per fare una per fare per riuscire da questa immersione che è un'immersione che sicuramente fa venire mal di testa al 22 18 di un giovedì qualsiasi volevo solo farvi vedere uno schema un attimo veramente molto più semplice così ritorniamo poi al nostro tema della serata chiudo questa ma è uno schema molto semplice però che secondo me ci chiarifica tante cose rispetto a quello che abbiamo detto tra un giurassi park e l'altro giurassi park che è lo schema hanno detto divano in chat che alla fine mi devi far fare un esame questo schema che è molto semplice come vedete c'è sempre il cerchio ok c'è sempre il cerchio il nostro qui è diviso ovviamente nei tre atti per questo sono un pezzetto un grande atto e questo poi lo potremmo tagliare in 34 e 5 è lo schema più o meno della struttura del loro allora qui vediamo le cose sono normali vuol dire appunto il mondo è ordinario qualcosa avviene di straordinario ma ancora non lo riconosciamo in qualche modo quindi la bambina mangiata morsa diciamo dalla lucertola poi c'è un momento in cui questa questa seconda è oddio forse le cose potrebbero davvero essere strane chi lo sa e intanto continuano a muoversi le cose poi ho passato il midpoint che questa parte qui oddio no le cose sono decisamente strane dobbiamo fare qualcosa e poi nel passaggio al terzo atto è il fare qualcosa per impedire questa roba quindi questa era per uscire da visto abbiamo fatto tutti i passaggi intermedi di mille punti poi alla fine la sceneggiatura originale per questo di cui corrisponde al genere oro perché nel genere oro e il primo giurassi park lo rappresenta le cose è come se noi raccontassimo di un mondo straordinario che ha già fatto l'ingresso nel mondo e quindi in qualche modo le cose sembrano normali ma non lo sono e poi dopo appunto c'è un momento c'è la realizzazione di quanto le cose siano non ordinarie e poi appunto l'agire rispetto come se la seconda metà del cerchio sia agire rispetto alle cose straordinarie questo è interessante giurassi park vai gianni allora allora parliamo un po di registi gianni riesci a fare nel giro di meno di un minuto una piccola la vecchia sceneggiatura com'era dove partiva e dove andava a finire velocissimamente si partiva con questa bambina che veniva mangiata una volta che aveva mangiata questa bambina c'era praticamente veniva mandato ad alan grant che era visto come uno dei massimi esperti di rannosauri un pezzettino di questa creatura che era stato rinvenuto e lui scorgeva in questa creatura dei dinosauri john ammond lo andava a contattare andava in questo giurassic park e si rendeva conto che john ammond aveva ricreato questi questi esseri mostruosi questi diranno questi dinosauri in seguito poi alla alla vera e propria scena che abbiamo visto anche nel film quindi con nebri che toglie la corrente per rubare gli embrioni nebri riesce a portare gli embrioni sulla barca ma questa barca viene presa d'assalto da alcuni veloci raptor che proprio si arrampicano su questa barca mentre che questa barca va via con questi embrioni il t-rex si libera uccide tutto tutti e anzi c'è questa scena che non abbiamo citato dove praticamente malcomo veniva gambizzato cioè il t-rex gli strappava via una gamba ok dritta per dritta alla fine comunque loro riuscivano a sfuggire a questo t-rex con questa scena pazzesca nelle 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 attraverso le cascate con questa zattera e questo t-rex diventato tipo lo squalo un pezzo una volta esatto una volta che alan grant riusciva a riportare in salvo questi bambini lui doveva andare a riaccendere la corrente quindi non ellie mentre la cercava di riaccendere veniva assaldato assolta assalito da questi veloci raptor e praticamente lui li doveva uccidere e li uccideva attraverso delle uova avvelenate lui andava nella sezione di eugenetica prendeva una boccetta di veleno ci infilava il veleno gliele lanciava e loro le mangiavano i nipoti intanto venivano circondati da questi altri veloci raptor john hammond si sacrificava alla fine per salvare in modo che loro potessero andare e alla fine praticamente mentre loro cercavano di fuggire da questo pacco di nuovo il t-rex ad inseguirli che afferrava questo elicottero fin quando poi questo pilota con una manovra evasiva riusciva a svincolarsi dalla bocca del t-rex e ad andare via è però il problema è che finiva il film con i dinosauri che invadevano la terra di base perché ricordate tra l'altro il protagonista c'è chi all'arco cioè chi si sacrifica a questo punto era il l'autore del parco si era quello che aveva l'arco evolutivo più grande paradossalmente quindi diciamo che in qualche modo è un passaggio di focus da un protagonista che è il creatore di un parco e gli sfugge di mano a i visitatori di quel parco esatto se un po il era a livello di pitch a livello di pitch che cosa succede sarebbe se uno scienziato riesce a ricreare i dirannosauri ea l'altro pitch che è quello che abbiamo visto poi nel film che cosa succederebbe se il più grande studioso di dinosauri li ritrovassi in vita ecco per per far mentre mentre per fare un pitch appena migliore appena prego prego cosa quando uno studioso di dinosauri va in un parco che sembra la riduzione di tutti i suoi sogni scoprirà che forse i suoi sogni non sono ciò che si aspettava nell'umanità e che si aspettava quindi ora in qualche modo reagire a questo e impedire quello che il suo sogno possa distruggere il mondo mentre nel primo nel primo pitch è quando io crea un mondo di dinosauri mi sostituisco a dio che succede con le conseguenze quindi per questa versione scritta abbiamo detto questa prima sceneggiatura che c'è appena nello strato gianni era scritta direta me e direttamente direttamente da michael crackton che è l'autore appunto del libro giurassic park da cui poi è stato tratto il film che conosciamo tutti per questa sceneggiatura gianni ha pensato a tre registi dove ci hai messo comunque spilberg dentro quindi vabbè andiamo james cameron quindi tu hai scritto per utilizzo sperimentale la cgi mondi fantastico che cameron aveva fatto già terminator aveva già fatto anche di abyss all'epoca che comunque anche lì c'hanno degli impatti un po' horror tutte e due esatto soprattutto di abyss ok quindi james cameron conosciamo tutti che cosa ha fatto eccetera eccetera all'epoca era comunque in grado sicuramente di girare una roba del genere poi ci hai messo steve spilberg per per film d'impatto sul grande pubblico sappiamo tutti che steve spilberg in realtà è il creatore dei blog dei blockbuster cioè blockbusters e li ha inventati lui con lo squalo lo squalo fu praticamente il primo film che viene definito un blockbuster è uno sperimentatore e ha una visione fanciullesca e lì infatti si percepisce proprio in giurassic park si percepisce e poi le wachowski le wachowski ho voluto tutte e due non sappiamo quale l'una e quale l'altra per via dei concetti filosofici che ci possono essere all'interno di un film del genere sia in tutte e due le versioni sia nella versione uscita che nella versione non uscita in realtà di gregton comunque il concetto filosofico era ben presente la violenza appagante perché nel primo c'era un bel po di violenza e in generale wachowski ma dove c'erano sta violenza appagante la in tutti i film da claude atlas a metrix senza anche molto fisica come posso dire è vero vero c'è ragione e per le riprese ed effetti sperimentali ok che hanno che hanno loro anno con matrix scavalliamo il tipo di cinema da cinema moderno arriviamo al cinema contemporaneo è il film che decreda il passaggio c'è nicola di questi sono i tre che propongo i tre che proponi tu adesso tommaso vediamo che cosa pensa ti leggo di quella dc in chat che dice io sparo tre nomi ridi scott john carpenter o per cambiare un po la parte del mondo bon john who che all'epoca non esisteva infatti lui lo scrive carpenter e debuti lounge tira fuori un guglielmo del toro tommaso tu cosa pensi io ho due proposte però questo come dire parlando produttore direi che firma in mente parliamo della prima scena ovviamente se se il film visto che abbiamo detto in cinque atti visto che abbiamo detto che ha a che fare col diritto contro la dura secondo me ci sono ci sono due possibilità o andiamo nel nel film alto budget o medio budget in realtà per carità con mostroni e quindi andiamo con un sembra iimi o al produttore direi se vuoi fare un film più interessante possiamo tirar dentro kenneth branag che è un regista che è shakespeariano alla collia esattamente quindi un regista che di solito tratta materia shakespeariana per dire come fa il taglio mostri a parte che tanto voglio dire c'è il tippet lo diremmo lo stesso però un regista che invece porta dentro tutta una lettura come dire c'è spiriana del testo così per variare allora dico sembra imi se vogliamo fare i mostroni perché il blocco basterone con i mostroni eccetera eccetera però sempre però che nel brava il secondo me ti dà quella roba un po europea per chi non dovesse avere idea di roba del genere che netbrana che avete visto tutti è stato il per il tor il primo che ha l'autore del primo esatto che avete visto in pochissimi è stato sleut probabilmente non so se tommaso l'ha visto esatto l'abbiamo visto probabilmente io gianni e tommaso e basta un film della madonna è un film della madonna è un film della madonna bellissimo e come altro che altro cos'altro ci può essere che che lui ha fatto che possiamo tirare ha fatto degli amleto ha fatto un amleto memorabile ha fatto ha fatto ha anche recitato tra l'altro esatto lui fa il cattivo internet per farvelo configurare a livello preciso ecco il professor alok in harry potter è anche per aver fatto anche sia in teatro che in cinema ha portato che ha fatto pure enrico quinto sai che sono molto d'accordo pure io con te con che netbrana però ne abbiamo tre che netbrana il quarto ne dobbiamo trovare un quinto giusto per riempire la cinchina ma guarda secondo me aveva detto bene nicola dc tra ridley scott e john carpenter solo che forse più scotte però scotte l'avrebbe fatto diventare un altro alien scusate off topic mega off topic ma guardatevi the last duel di ridley scott è pazzesco quel film si è un altro fratto se non sbaglio già su sky è un disney plus la cosa no the last duel quello nuovo ma non è di besson no 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 è di ridi che è uscito da bollino da uscire da poco si è quattro giorni no perché c'è l'ultimo duello di luke besson che il sin primissimo che cosa rinno giovanissimo ma no questo qua un altro sigla della 2 l e tommaso tu sei come me troppo vecchio uscito da poco al cinema e già sta su disney plus capito noi non siamo abituati a questa cosa è stato scott vabbè avventura pazzesca di quel film poi ne parliamo non è serata ma posso dire un nome visto che maio parlando di passato ma scusate ma toni scott allora sempre poco lo abbiamo pagato io tony scott l'ho amato alla follia ma lui è troppo un video che paro una roba del genere sarebbe stata credo sarebbe stata troppo forte però io direi di far partire il sondaggio con james cameron spilberg le wachowski kenneth brana e poi ci buttiamo dentro un ridisco del toro sono sempre quella francese particolare stasera sono vedendo uno stronzo vuoi tu vuoi luke besson tommaso vuole luke besson quindi sondaggio per favore non di 3 mila anni massimo due minuti fra cameron spilberg wachowski kenneth brana voglio vedere come lo scriveranno nel sondaggio e luke besson non è facile ragazzi proprio ragazzi in chat ragazzi in chat vi ricordo che adesso parte quel sondaggio non appena giacomo andrea riusciranno a scriverlo che net brana l'ha scritto giusto l'acqua viene incollato brava quindi james cameron stile spilberg le sorelle wachowski che net brana e luke besson secondo voi chi doveva dirigere sta versione di kripto di kripton porca miseria di giurassic park un po più horror e meno che bello che bello gli animali sono vivi perché giurata su il buon vignoni ciao vignoni vediamo cosa stai facendo innanzitutto allora allora non faccio vedere chi non tocca a tutti e tre tutta la chat io vi sto guardando ecco io dirò una cosa che you're bad d'ancestor in italiano ma la dico così mortacci vostra fa più difficile no ma era più difficile ma comente che net brana simone le cose facili le cose facili sono noiose ragazzi il sondaggio sta in fi in cima alla chat se non vi esce magari aggiornate la pagina ma vi dovrebbe uscire a parte la mia la mia la mia paura di quello che voi scegliete allora ha nascosto comunque quindi adesso deve vincere brana e lo sponsor di chiede della di questa sera nord e pienne sempre quello che guarda 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 che ho fatto che ho fatto che lo sponsor questa yam andiamo 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 al vpn e gli mandiamo un'altra fattura dicevamo tombato perdonami mi dicevamo erano così giusto mandaglielo mandaglielo a rezzoni quando lo finisce ragazzi perdonami intanto il sondaggio è finito però vi devo ricordare ovviamente una cosa mentre renzoni si si eccita e le cose vi piaccia l'altro che vi volevo ricordare amore di mamma vieni che è pronta l'azione ma allora mi volevo ricordare che simone vignoni perché sta qua perché sta qua perché lui sta creando creerà la locandina di quello che è questo film la locandina come sempre come per ogni puntata gli era meglio live andrà a chi donerà più abbonamenti questa serata intanto c'è è tagliello che ha regalato un abbonamento e quindi intanto per gli età grazie a chi non si ricorda le live vecchie o chi è nuovo e insomma io vi faccio vedere quelle che abbiamo realizzato tempo dietro a spiderman poi ci abbiamo a tema dei stori bella questa non l'avevo vista neanche io l'avevo vista poi ci abbiamo quella persona dei repressi deve restare il tiro quindi ragazzi queste sono le locandine che abbiamo già fatto e simone ne farà un altro ovviamente per giurarsi il parco ispirandosi a registi che sceglieremo e già l'avete scelto e vi dico che sono le sorelle wachowski le sorelle wachowski battono per pochissimo james cameron kenneth brana stava al terzo poi luke bessone stime spilberg all'ultimo con un solo voto e basta quindi simone le sorelle wachowski vai con le sorelle wachowski grazie divertiti divertiti adesso giurarsi il parco alla wachowski per ora tutti questi disegni pazzeschi su giurassi il parco adesso vi faccio vedere magari qualcosa che ha proprio disegnato vignoni a riguardo di me li faccio vedere perché sappiate che se regalate gli abbordamenti a darvi la cantina pazzesca che fa buon vignoni vi daremo anche tutti gli stori che ha fatto migliori tipo è certo tutti i disegni che sono stati ancora questo cazzo faccio vedere l'acqua tommaso me fana questo è il momento e dici tu che la prossima volta che nomina spider man degli e strappi la laurea per cortesia perché noi a faccia no way joe a mi porta pure al cinema a vederlo guarda in una live di strappola laurea madonna mia che bello allora questa è la scena in cui abbiamo detto che ci sta nedri che riesce a raggiungere la nave e qui vignoni ha disegnato praticamente tutta la scena c'è il capitano nedri loro che si incontrano nedri che gli dà il barbacolo come si chiama dunni e però questo esatto cioè bellissimo l'azienda la cosa veloci dato che salgono sulla nave e allora adesso l'anno giannis correggi di nuovo c'è qualcosa che non bene la tua vita ma cosa c'è perché voleva far giovane cavo le cose quindi quindi mai simo sorelle wachowski vogliamo il t-rex che evita i proiettili dicono divertiti come stavo dicendo adesso non fa adesso divertiti che è che buon lavoro ciao simo chi è che ha donato quindi adesso per ora è tagliello ha donato un abbonamento auguro a tutti buon natale e io dimenticato di accendere la mia decorazione di natale adesso natale fa schifo natale basta già e quindi sì per ora beccherai tutto questo malloppo ma adesso parliamo di personaggi parliamo di persona all'interno di questa storia io vi voglio proporre due personaggi che secondo me sono quelli che sono un po i protagonisti come abbiamo già parlato precedentemente abbiamo detto che un po i protagonisti di questa prima della prima versione era veramente john hammond perché se vi ricordate noi abbiamo sempre detto che la cosa fondamentale all'interno di qualsiasi storia per configurare un protagonista è quella di vedere un arco evolutivo completo tutti i personaggi all'interno di un film hanno un arco evolutivo quello che però all'arco evolutivo maggiore quindi che cambia radicalmente da come era all'inizio per poi ritrovarsi alla fine del film è quello che è proprio il protagonista giusto però quanta gioia bello che bello e quindi io in realtà volevo proporvi da subito partiamo da subito con il primo protagonista che è quello che abbiamo visto nel film quindi alan graen qual è il need e il desire di alan great chat vediamo se siete bravi giovanni te lo chiedo a te tu hai capito adesso che cos'è need e desire sì ma di giù tu dici gioiassi in parco quello vecchio il film il film il film che abbiamo visto a quello quello va e lui l'ho fatto quello fa noi diciamo che ha bisogno di andare avanti con il suo lavoro cioè vuole scoprire tante cose si ha bisogno di andare avanti con il suo lavoro riesce intanto grazie brb 989 che regala due abbonamenti quindi al momento lui che si becca la locandina vuole andare avanti con il suo lavoro questo è quello di cui ha che desidera in realtà ma in realtà è quello che desidera ma lui ha ma quello di cui ha bisogno nel film dai è facile ci puoi arrivare ma ieri aperto per il rapporto che c'ha tutti buono lo so non mi viene in mente ci stavi arrivando il rapporto che ha porto con i bambini esattamente quello di essere padre è quello che mi viene in mente cioè di avere qualcuno vedete vedete come vedi che sto imparando cazzo e marron zoni ti ascolto il bisogno è basico il desiderio è nevrotico si direbbe il desiderio è razionale cioè il desiderio possiamo parlarne tre ore il fatto ha bisogno di fare questo il suo lavoro le cose il bisogno è padre è un bisogno di paternità molto semplice d'altronde alla fine abbiamo detto la teogonia zeus crono urano è bisogno di mettere nel mondo il tuo genoma cioè proprio un bisogno prettamente maschile da un punto di vista della dello sparge nel mondo creature che hai creato te cioè come dire è un qualcosa di mitologico gianni vista stagliattando la schiena perché c'ha paura che dica qualcosa però è questo cioè è un bisogno estremamente ancestrale ne ha bisogno di riprodurre qualcosa che è forma di se stesso che sia lui o che siano dei dinosauri che lui ha riportato in vita quindi qualche modo qualcosa che è riconducibile a lui che ha un bisogno di paternità tipico delle divinità in qualche modo esatto quindi io su alan grant vi propongo queste due facce mel gibson harrison ford mel gibson harrison ford per la prima versione della sceneggiatura questo perché perché nella prima versione in realtà un po il protagonista più grande ragione al mondo ma di questo ne parliamo tra un po perché vi ho selezionato mel gibson per me per come si comportava alan grant in questa avventura di jurassic park e questo probabilmente anche per questo che l'hanno cambiato mi ricordava indiana jones è già vero che in parte un posto è un po lo prende un po lo ricorda ma qui che faceva queste avventure tra le cascate che doveva infiltrarsi mentre leggevo la sceneggiatura proprio paparappà papà e quindi io vi butto harrison ford anche vi ho citato anche un altro film molto bello che non si è cagato nessuno con harrison ford o comunque che conoscono in pochi che a me piace tantissimo si chiama air force one bellissima c'era un gary old man gary old man insospettabile in air force one cioè faceva il cattivo quante persone conoscete e forse un film viene viene buttato come fin d'azione degli anni 90 un po così è un harrison ford che fa il presidente degli stati lì sì sì ma vabbè sì nel corso e poi e poi vi ho citato anche mel gibson perché mel gibson tra il film ipotesi di complotto che è sempre un film che magari anche questo molto interessante con giulia roberts come coprotagonista e brave art quindi questo mega avventurosa e così via vi ho citato questi due prego prof voglio sapere questa idea che avrà allora devo dire la verità a me questa cosa di un personaggio figlio come harrison ford mi piace pazzamente perché harrison ford ogni giorno c'è un personaggio figlio e lui e lui ha giocato tantissimo l'estetica e l'etica dell'essere un personaggio figlio cioè quasi tutti i suoi film sono nell'ambito di essere un personaggio figlio qualche modo cioè con padre assente figlio incompleto non ha mai fatto il passaggio essere padre ma anche perché ha avuto molto a che fare sia con spilberghi e con lucas che tutte e due hanno avuto problemi con i genitori di un certo tipo e quindi ha fatto quel tipo di passaggio infatti per una parte di me figlio degli anni 90 avrebbe potuto dire bruce willis però bruce willis è uno che l'ha fatto il passaggio mentre attenzione citando sentiamo infanzia mi mi viene voglia visto che tanto stiamo sempre giocando io continuo a giocare sull'ambito scespiriano pierce brosnan pierce ci sta ci sta che fra l'altro stanno andando su sky in questi giochi è un filmettino però a me diverte con la ci sono cresciuto con la con la moglie con l'ex moglie james cameron che era quello che lei terminator 2 lei è che ha fatto anche blacklist stargate blacklist come si chiama lui all'attore è cazzo ma quello che fa pure indipendent day no no dai dai stargate e blacklist ci sono un attore che entrambi i film è il problema no il padre esatto spade in spade ultron ultron e ultrono allora quindi tu dici peace brosnan ps allora e gianni dice mel gibson e harryson ford io non voglio tirare fuori altri nomi ma sono combattuta la cosa perché harryson ford è più il figlio come dice tommaso ma mi dà più come uomo d'azione forse anche per con air che comunque era un presidente che comunque stava vicino all'azione oppure anche il fuggitivo film dove lui deve scappare a tutte parti filmone della madonna anche quello comunque come personaggio d'azione ci sta se vogliamo andare un po più sull'azione che aveva giurassic park se siccome quel concetto del padre mi è piaciuto molto però in giurassic park io non credo che sia anche in quello vecchio nel giurassic park questo concetto del padre o meno esatto perché mel gibson per esempio è è proprio un papà e prima che si rincoglionisse lasciando stare tutto quello che è successo negli ultimi anni perché non so se vi ricordate un film si chiama the patriot il patriota dove non è protagonista filmone della madonna sempre con it ledger anche quel film a bonamma lì era proprio il papà no che deve salvare questa famiglia e pur di salvare la sua famiglia si butta lui a fare questa guerra che non voleva fare di cui aveva paura eccetera eccetera e dai mel gibson e lo studioso però sì 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 alangrent e lo studioso però noi hai ragione un horror siamo più sull'horror kart russell hai citato hai citato stargate di ci butto dentro kart russell per chi non se lo dovesse riconoscere in stargate era il militarone che assisteva un figlio morto esatto esatto e c'aveva la storia con il figlio morto per cui anche lui fa un po da papa tutta quanta la la spedizione quindi diciamo abbiamo detto mel gibson per il sondaggio sempre due minuti mel gibson e harrison ford pierce brosnam e kart russell se non vi ricordate chi è kart russell guardatevi i guardiani della galassia volume 2 lui è nicola diciamo solamente io che voglio citare la marvel quando c'è giovanni che mi aspetta perché c'è nicola dc io e nicola dc ma ti becchiamo spesso in chat che mi tira fuori mamma mia che filmonezza che stargate non osare mai più non osare mai più è un film che parla sulla possibilità di cambiare il passato è qualcosa di una profondità incredibile tant'è che non è un caso che kart russell abbia il figlio morto la possibilità di mettere le mani nel passato tutti noi l'abbiamo sempre sognato cioè tra l'altro anche a livello di vfx una storia a stargate quando è uscito era da crollo della mascella letteralmente cioè che cazzo se sono tirati fuori era folle se non sbaglio è stato licenziato due volte da quel film ammazza si no ma la follia pure cioè perché lo volevano fare in 3d l'acqua che esce poi la fece in un altro modo all'ultimo con l'acqua vera sparando una carica nell'acqua e girandola c'è quello che otteniamo con lo stardino pazzesca stargate è incredibile target e quelli quelli successivi a me non sono piaciuti però non esistono cercato di fare world building su un film che è lui chiedono come cazzo hanno fatto su stargate è una proposta che ho già fatto la rifarò ma perché non lo conoscono in pochi più che altro e quelle poco bomba è bellissimo mentre che il sondaggio vai sondaggio e partito sondaggio sì credo sia partito sia appena partito da poco ok mentre finisce il sondaggio parliamo un attimo del vero protagonista di questa storia dovete capire innanzitutto questo è una cosa che non abbiamo detto prima la storia di jurassic park non cambia tanto per volontà di spilberg ma più che altro perché c'è stato quando quando questo michael crayton presentò la sceneggiatura la sceneggiatura era buona convinse spilberg il problema è che era irrealizzabile a livello visivo crayton aveva previsto circa 300 dinosauri in scena una cosa fuori di testa e spilberg chiamò david co per semplificare questa sceneggiatura e sicuramente david co che non è nient'altro che anche l'autore tra parentesi anche del primo spider-man è molto più abbezzo a storie semplici storie d'impatto che possano e zio ma è così ma che cacchio aspetta che ci diamo qualcosa di figo che ha scritto david co per primo spider-man ma madonna mia guarda se pensi che lui ha scritto pure aspetta panic room omicidio in diretta il mondo perduto ha scritto pure mission impossible l'uomo ombra carlito suei ha scritto la morte di posti col quale e carlito sui era unico sceneggiatura non lo so c'è nella sceneggiatura ne no nei suoi modi forse no scritto già si parca la morte ti fa bella filmone della madonna ragazzi la morte fa bella che benaviglia cazzo di film abili gianni giuro no that's become her se non mi ricordo male bellissimo di commedia mary streep al biglietta sti agli effetti visivi bellissimi isabella rossellini un ruolo che si e tra l'altro l'altra figura della scena di nudo era quella che poi fece jack avvocato lisa e biglia la mia età sa di cosa parlo lo recupero bellissimo comunque il sondaggio è finito il sondaggio è finito gianni e poi ti lascio vince kart russell seguito da arison ford mel gibson e pierce brosdam come ultimo quindi simone vignoni di ritiriamo su un attimo abbiamo abbiamo il nostro protagonista che è kart russell non te lamentavo è classica faccia americana biondo fico vai mascellone piglialo ai tempi di stargate e gli anni 90 tipo che oddio forse per me era quel periodo è brava è quella roba lì si aveva fatto all'epoca il primo con taranto non è quello col tarantino forse no vabbè giusto per fare ma vado contro certe regole no 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 io le faccio erano azion e un piante riserva del 2018 io non guarda e stasera oggi ho fatto la terza dose del vaccino quindi voglio stare un po tranquillino me ne sono bevuto un pochino e basta mi è bastato quello kart russell per dire poseido poseidon che va bene non è un granché di wolfgang petersen come come grossi film ha fatto fuga da los angeles stargate ricordiamo una meravigliosa valeria golino vero italiano nel 1997 sempre finita che glielo inviate glielo inviata a lui il canon ha o io che due grazie due bottiglie io dico sempre ogni volta che la gente dice a vi regalo vi faccio vi dico no dai ma te prego per favore ma per il vino offizio io sto super in fissa grazie robo briggs invia le slim dogs un andrà giovanni e un andrà a tommaso renzoni promesso comunque simone kart russell divertiti dai che adesso tiriamo fuori la protagonista femminile giusto gianni come stavo dicendo la sceneggiatura è cambiata per una questione semplicemente di doverla semplificare e fu affidato a questo david co il compito di semplificare la sceneggiatura che era già buona di per sé poi successe che mentre facevano gli effetti visivi infatti chiamano proprio il tip che doveva fare tutta questa stop motion pazzesca adesso vi faccio vedere un piccolo filmato perché questa cosa fecero la motion capture basato la stop motion una cosa stranissima questa questa ci arriviamo perché prima di fare questa cosa qui vedevi sapere che ecco aspettate scusatemi questi gli argonauti sono praticamente tutti eccole qua fecero proprio le scene in stop motion non è certo il tippet e il tippet e andò a realizzare eccole qua sono scene che non sono state poi inserite nel film no vabbè ma queste sono aspetta questi sono dei test le prove sono i test sono i test di test certo perché naturalmente gli attori vado a come parli ecco la mia passione per il cinema no 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 ma figurati è la cosa è che più che altro dietro il compito di creare un motion blur artificiale perché la stop motion essendo una tecnica di animazione basata su fotografie e quindi di base e i frame sono totalmente fluidi non c'è una vera e prova sfocatura dettata da un movimento come per esempio in questo caso semplicemente esatto dietro il compito alla ilm di creare questo motion blur artificiale la lm si mise a fare questo motion blur ma c'erano due pazzi scocciati che iniziarono a fare proprio i test sui dinosauri e iniziarono a capire se potevano realizzarlo in cgi e ce la fecero lo videro e dissero ma se noi potremmo fa sta roba ma mettiamo le dinosauri e quindi c'era david coppe che semplificava la sceneggiatura e spilberg che invece l'andava a modificare ulteriore a mettere cose cose nuove questa cosa è molto interessante ne abbiamo parlato anche in un come cazzo hanno fatto che praticamente film tippet molto velocemente full tra virgolette licenziato cioè gli venne detto non poi non utilizzeremo la stop motion ma lo reintegrarono perché lui è un esperto di movimento di base di animali eccetera siccome i movimenti che aveva creato erano veramente credibili disse fai una cosa gli animatori lo sanno fare al computer ma non li sanno far muovere mettiti con loro insegnagli spiegagli come si devono muovere quindi fu una collaborazione fra gli lm phil tippet è uscì benissimo per questi dinosauri sono così credibili perché si muovono in maniera credibile sì perché in realtà praticamente hanno fatto una specie di motion capture appunto l'armatura di un di un dinosauro però con dei sensori che facevano sì che lui potesse animare stop motion esatto i dati mandare l'animazione a un signi crearono anche un particolare controller a forma i dinosauro c'è un precedente questo è la parte di me quella vfx che parla questo è un precedente importantissimo perché ti fa capire quanto alle volte anche oggi molto spesso in film anche da altissimo budget io ho lavorato su film che erano o colorato con persone anche che hanno lavorato film che erano altissimo budget l'idea di utilizzare la reference reale quindi l'animazione anche stop motion o comunque dei sensori se la portano appresso tuttora cioè il concetto di reference di fare di filmare un attore che fa una cosa e poi rianimare il personaggio su quella cosa è difficoltissimo piccola parentesi e chiudiamo andiamo avanti con l'attore ragazzi domani esce il cinquantesimo episodio di come cazzo hanno fatto chi ha visto editing in cille praticamente già stati che cosa si parla l'ha già visto si parla di questo per colpa di questo video io ho comprato il cofanettone del signore degli anelli quello con 200 mila ore di contenuti speciali vi consiglio veramente di vederlo perché a parte che il più lungo che è uscito fuori di del come cazzo hanno fatto è tremendamente interessante studiare il signore degli anelli per mauro e studiarlo insieme a mauro è aver avuto voglia di coprire il cofanetto e proprio perché è un film noioso non noioso questo è il relativo comunque la realizzazione del film è veramente una roba unica unica in assoluto che non ha un precedente e non avrà mai un seguito perché non verrà mai fatto produttivamente un altro film esattamente come è stato fatto il signore degli anelli è un'epopea importante per il mondo del cinema e siamo a del cinema lo dovete vedere domani alle 14 basta andiamo avanti vi posso dare questa questa cosa questa pillola poi chissà se mai lo realizzeremo io intanto l'ho trovata ma se vi dicessi che il signore il signore degli anelli doveva essere interpretato dai beatles si lo sapevo ma ci sono anche dei cartoni amati sul signore degli anelli sono un sacco di cose però doveva essere interpretato dai beatles e diretto da stanley kubrick ma andiamo avanti andiamo avanti il l'attore john amond in quel giorno c'è il personaggio john amond perché abbiamo neaglson basta è vinto lui perché john amond perché di fatto nella versione della sceneggiatura che abbiamo visto in precedenza un po quello che aveva l'arco evolutivo maggiore come abbiamo parlato anche prima con il professore era proprio john amond il quale da persona un po' stronza che preferiva i dinosauri agli esseri umani diventa una persona che decide di avere a cuore i propri nipoti di sacrificare la sua stessa vita e di mettere in salvo i propri nipoti e quindi il need and desire più forti e con un cambiamento più drastico li abbiamo proprio in giornale e per questo io vi propongo due attori vi propongo jack nicholson e morgan freeman voglio partire con morgan freeman perché io ci stavo pensando oggi e dicevo ma secondo me mettere un attore che di classico fa il cattivo a me questa cosa non piace a me piace vedere attori che magari molto spesso fanno i buoni vederli investi dei cattivi ho detto qual è l'attore che più di tutti mi dà un senso di pace interiore e stavo pensando a morgan freeman e come film un po più particolari dove lui non è un personaggio esclusivamente positivo ma ne sono venuti due le ali della libertà dove lui fa il miglior amico di red e quindi colui che sta in carcere e che ammette il fatto che ha ucciso effettivamente nella nella sua vita passata e deve scontare anni e anni di di pena in questo a shawshank e poi nella morsa del bagno secondo me morgan freeman poteva essere una chiave interessante provatecelo a vedere un cattivo con questo sguardo che sembrerebbe quasi che voglia fare un bene per l'umanità creando questo parco ma in realtà è solamente a pagare il suo stesso ego e poi naturalmente jack nicholson jack nicholson avevo messo china town fare qualunque cosa che sicuramente avete visto allora tommaso parte che ho visto dire anthony o anthony hopkins 92 e comunque sì nel senso che è molto interessante anthony hopkins ma il nome che avrei detto io è quello che il protagonista di cioè che una figura secondo me assimilabile per questo mi viene in mente perché era la stessa figura in apocalypse now e nell'isola del dottor moro un po un po magari secondario per alcuni che è marlon brando ok ma lo credo che marlon brando vivo morto non ci interessa ragazzi stasera diremo fuori questo forse ancora vivo no era già morto 93 la già morta era già morto controllo non mi ricordo di deciso è morto nel 2004 no no quindi aveva vivo mega vivo secondo me perché nell'isola il dottor moro faceva un ruolo che di fatto è assimilabile prendiamo un fotogramma è identico sembra quasi la reference di questa tempo no però c'ha il bastone sta lì è un dio che è la stessa cosa che succede sembra quasi il segue non era poco che è uno che ha visto è diventato dio di qualcosa ha visto quello che è successo e marlon brando alla capacità di portarti questo ora ovviamente ingestibile completamente matto però completamente matto però non è che genio sia fatto più gestibile quindi io voto io dico marlon brando teniamo questi tre morgan prima jack nicholson e marlon brando è perché hai tirato c'è la carta jack nicholson e la carta marlon brando chi cazzo vuoi mettere io però morgan prima vi dico provatelo a immaginare in questa situazione perché sai cosa morgan prima avrebbe dato questo al film che forse nicholson e brando non sarebbero riusciti a dare in pieno perché sono figure molto emblematiche e conosciute da tutti all'inizio vi sarebbe vi sarebbe passo a tutti quanti il buono cioè vi sarebbe passo una persona di base buona la prima per sceneggiatura sembrava ok allora aspetta allora aspetta anche se era troppo giovane dici butto dentro che mi spesi ok bravo bravo se vuoi giocare se vuoi giocare col buono che poi alla fine sondaggio morgan prima jack nicholson che mi spesi anthony hopkins e marlon brando sono cinque ci rientriamo della serie attori di solito comunque queste grosse produzioni quando devi fare un personaggio del genere cioè un po questo saggio no eccetera e prendi sti mostri sacri perché da un punto di stagio stiliano anche il logan xavier lo fa patrick patrick stewart ragazzi il sondaggio in chat andate a votare come sempre tra l'altro è un ottimo riccardo no un ottimo macbeth pazzeschi esatto uno dei micro più belli che ci sono c'ha padre stuart esattamente protagonista che pure xavier e quindi ci avrebbe anche forse in questo in questo ruolo ci sarebbe stato benissimo anche ian ulm ian ormento un personaggio che un attore che io adoro che tutti sono ricorda ovviamente per il signore degli anelli a me piacciono tantissimo in from hell anche come quello dove lui e poi la no non dico cosa intendo non faccio spoiler parlando di lezione degli anche oddio dai il vampiro che anche il nostro amato vampiro christopher crea è christo per lì christo per lì christo per lì christo per lì usate stasera mi perdo i nomi christo per lì pure tutti i super nomi tutti i super nomi vabbè anche ian seria me che me che me che è stato recuperato perché non stava non era così un super nome prima di tim barton se non sbaglio aveva fatto con tim barton mi sa proprio edward mani di forbici faceva il padre sì sì però però diciamo christo per lì è famoso per finire la hammer negli anni 70 insomma non è un attore che ha sfondato veramente a un livello di cachet per il quale tu dici però un grande grande no e c'è nicola che dice spalle soggetto lo scortatore sono passati 200 anni dal film un po meno per effettivamente sono passati tanti anni allora adesso arriviamo all'ultima parte di questa live che forse in questo caso sarà la parte un po più rapida ma perché di base comunque aspetta scusa gianni prima andare avanti tiro su simone ah vai scusami ti dico l'altro attore c'hai un kart russell e accanto c'hai un morgan freeman che è meraviglioso morgan freeman morgan freeman batte anthony hopkins subito dopo che mi spesi marlon brand jack nicholson come ultimo era dei bianco giallo quindi simone morgan freeman morgan prima dai vai crea divertiti divertire un applauso brava che mi ha dato la fidu mi ha dato la fiducia quindi gianni scusami se ti ho interrotto vai allora quello di cui adesso voglio parlare un po è naturalmente il tema del film e quindi cercare di capire se era giusto trovare magari un titolo o forse un sottotitolo che potesse essere incisivo e interessante di base secondo me giurassic park andava bene anche per la versione precedente ma voglio parlare un attimo del della della tematica del film c'è una cosa di cui ancora non abbiamo parlato e non so perché perché ho rivisto le live prof ed è una cosa di cui ancora non abbiamo parlato ma secondo me in jurassic park è una cosa fondamentale perché la fanno sempre ed è il papa in piscina che cazzo è il papa in piscina adesso è un messaggio di voi sceneggiatori tirare fuori minchiate il papa in piscina io immagino che se far bagno col costumino a slip è una tecnica di sceneggiatura che vediamo in tantissimi film allora il motivo che sia il papa in piscina ovviamente prende il nome da tra l'altro bello che gianni tira fuori queste cose ormai le maneggia proprio incredibile il papa in piscina è una tecnica di sceneggiatura che che appunto vediamo in tanti film prende il nome da 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 cosa da un film poi semmai gianni sarà saprà recuperare e sostanzialmente è un film credo gli anni cinquanta in cui c'è un complotto per far non so cosa non mi neanche più cosa e sostanzialmente a un certo punto va spiegato il complotto ed è un problema quando ogni volta dobbiamo spiegare un mondo con delle regole molto particolari dobbiamo sederci e dire ora ti spiego le regole di questo mondo è una delle parti che è una più rompi di tutte le parti di un film perché tutti devi mettere lì e devi scrivere una scena che è dritta per dritta tutta esposizione quindi cosa fai ti inventi il papa in piscina il papa in piscina è appunto da questa scena in cui spiegano questa in questo film spiegano questo complotto ma sono in vaticano sono di fronte alla piscina del vaticano e sullo sfondo c'è il papa che si toglie i suoi vestiti si mette il costume e si fa il bagno e appunto lo spettatore viene distratto dal concetto di dire ma vedi pure il papa effettivamente si fa il bagno e si mette lì in piscina e fa le vasche e si e si dimentica che sta ascoltando uno spiegone molto lungo l'orgoglio degli occhi di mezzone il papa in piscina mi sveglia e si dimentica del fatto che sta ascoltando mentre vede una cosa diciamo di intrattenimento sta ascoltando uno spiegone quindi ogni volta che in un film vedete uno spiegone ma nel frattempo mentre vediamo questo spiegone viene fatto con due ormai con due modalità diverse una è appunto il papa in piscina diretto cioè spiego questa cosa mentre faccio vedere una cosa straordinaria tipo benvenuto nel cavo straordinario di fornox se ci pensi la cosa assurda è che anche qui dentro non lo so c'è la pausa caffè e i dipendenti si alzano vanno proprio a quella macchinetta del caffè lì che è la macchinetta di fornox ma mentre succede questo col dipendente che dice non va al caffè io ti dico noi dobbiamo fare questo piano dobbiamo fare questo e quest'altro quindi faccio vedere una cosa interessante i film di nolan sono dei papa in piscina tutto il film praticamente l'altro papa in piscina che che apprezzo molto è un un papa in piscina in cui tu sostanzialmente lo integri nella narrazione quindi molto spesso nelle nelle narrazioni complesse gli ice movies sono un classico cioè tu c'è da spiegare tutta la questione allora che fanno staccano di pezzo in pezzo e dicono quello è dove vanno i soldi stacco sono in una macchina e uno sta mangiando un panino e lì invece dove smettila di mangiare stiamo facendo una cosa più importante e lì è dove invece fanno ti tirano fuori i soldi li fanno uscire da lì e stacco e lì invece quello è la guardia giurata che più dei soldi però lo vedi è una relazione con quell'altra è tutto i tre gli oceans su tutti così esatto per questo l'ho fatto l'esempio perché esattamente come farebbero un montaggio in un ocean cioè mescolare le carte in modo tale che tu sei distratto dalla curiosità di fatto di scoprire qualcosa di straordinario e nel frattempo assorbi informazioni che altrimenti dette frontalmente se udiamo tavolo sarebbero loriosissime ok ok vi mostro questa è il pavampiscina ed è un pavampiscina bellissimo perché non vi spiega semplicemente il parco vi spiega il tema del film questa scena in questa scena c'è tutto il concetto della predestinazione del volersi sostituire al concetto stesso di dio è lo stesso malcolm qui che dice praticamente tu ti stai costituendo a dio e in questa maniera attraverso una scena magnifica come potete vedere con i cartoni animati loro che sono le spielberg face quindi con loro stupiti e questo carrello in che segue le loro facce fino poi ad arrivare al momento dell'eugenetica dove c'è lui che dice io voglio essere presente ad ogni uomo è un uomo che si schiude quindi è un momento come dire che ti affascina esatto perché lui ti dice io voglio assistere ad ogni uomo che si schiude e quindi si vede il delirio di onnipotenza che si insinua negli occhi di john hammond mentre lo spettatore non percepisce semplicemente questa cosa ma percepisce ed è affascinato dallo schiudersi dell'uovo di questo dinosauro che esce fuori e della spiegazione scientifica del tizio che spiega come funziona giurassino esatto vedi ed è proprio lui e guarda è proprio questo c'è il tipo che spiega come funziona e intanto c'è questo dinosauro che si muove proprio come un papa in piscina e questa cosa è pazzesca perché quando un film è scritto bene è secondo me una cosa assurda poi vabbè nella prima versione della sceneggiatura secondo me c'era anche questo save the cat molto imponente nei confronti di john hammond che c'era alla fine no sempre questa regola che in realtà poi abbiamo già citato cioè il fatto che blake snyder ci dice che bisogna salvare tra virgolette il protagonista quindi possiamo farlo cattivo quanto volete ma un certo punto ci deve essere un momento che ci fa empatizzare quantomeno con il comportamento di questo protagonista quindi detto ciò io vi chiedo al netto di save the cat al netto di papi in giurassi corde quando lui con i velocirattura quel rapporto quel completo cioè cioè guarda come li vuol bene cioè in fondo è buono esatto il film questo era il come lo chiamiamo allora io mi butto la questa cosa che la mutuo dalla dal remake cinematografica del pena delle scimmie che è stato fatto ultimamente rice of the jurassic park perché questo perché avremmo avuto proprio l'inizio e alla fine l'invasione di questo jurassic park sulla terra semplice e in tommaso io ci devo pensare non ne ho la più pallida idea guarda mi butto nella mischia perché veramente complicata questa roba perché ridare un titolo giurassic park è tipo quindi siccome io ho appunto un blocco essendo un figlio degli anni 90 e dalla fine degli anni 80 ma di fatto degli anni 90 l'unica cosa che posso fare perché ho veramente poco da aggiungere a questo titolo è che noi abbiamo parlato di dio e abbiamo parlato della creazione della scintilla divina quindi l'unica cosa che posso proporre è jurassic park quindi la scintilla ok ok sparita è l'unica cosa che mi può venire perché veramente mi sembra di bestemmiare a parlare bello però mi piace però mi piace park mi piace io non c'è veramente a ragione tommaso assolutamente impossibile ridare un titolo a jurassic park è veramente impossibile c'è chi nicola suggeriva dinosaurs che probabilmente è l'unica soluzione alternativa non lo so comunque è quella che mi può funzionare di più perché fra l'altro poi c'è la storia e storiellina che si chiama giurassic park ma del giurassico c'è stanno 1 2 dinosauri basta si vedono però era più bello giurassico come giurassic piuttosto che gli altri boh non lo so quindi tu e si fa più aiutano source sono d'accordo con la voglia direi dino source già già ragione gola poi tommaso dice giurassic sparks e park e scusa e gianni cos'era rice of the jurassic park vai sondaggio questi tre scegliamone uno di questi tre io vi dico che ho aggiunto solamente rice anche in come posso disti in previsione di un futuro possibile sequel che quindi era war of the jurassic park ho mutuato ho mutuato le cose del pena delle scimmie no ma anche perché ho pensato io se dici giurassic park diventa anche nel parlato giurassic spark quindi nel parco dei jurassic cioè diventa un gioco di parole sì 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 però sono solo tre i titoli questa volta comincia a parlare di budget che poi in realtà come ogni sera andiamo lunghi intanto volevo ricordare che la villa la locandina che sta facendo vignoni che adesso avrà l'ultima informazione cioè il titolo per adesso la becca brb 989 insieme a tutto quello che vignoni ha creato a livello grafico per il video che sta sul nostro canale ok già non di budget il budget di giurassic park e 63 milioni di donne è assurdo però va bene il 93 quindi con l'inflazione quanto sarebbero adesso penso 100 150 160 più o meno sì 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 forse anche 200 quasi se aggiungiamo secondo me sei cosa consigliamo il budget di adesso o del 93 no adesso ragazzi abbiamo sempre abbiamo sempre pensato col budget di adede dei giorni diciamo 160 quant'è adesso adesso sarà sa sì se erano 60 adesso saranno un centinaia scusami abbiamo sempre fatto quello di quello di prima ok scusa io mi ricordavo quello di adesso allora tommaso ragiona col 93 io quindi detto è 60 era era 63 con spilberg eccetera stavolta ci abbiamo chi era il regista cameron era il regista ok cameron ma no scusa no chi era il regista non me lo ricordo vignoni chi era il regista dove ricordi e che aspetta abbiamo scelto vabbè cielo io le sorelle vai simone grazie tra l'altro è un esordiente le wachowski con i protagonisti kart russell morgan freeman per un film che si chiama dinosaurs deciso proprio ok quindi simone ci hai sentito dinosaurs si chiama io vedo che grazie è molto secondo me costano poco si chiama dino quindi non incassa tanto anche se ti ricordo aspetta matrix ma per un motivo perché giurassi park chiama il parco tematico sono da questa era all'epoca si vendeva l'ip per fare il primo direi intelletto proprio di lì più per fare anche no un merchandise con dalle sono fai un merce andare spai una giocattoli al massimo fare il parco tema quindi vuol dire che è meno incasso ai cryton dietro mai le wachowski come sorpienti ai morti migliora costava meno le wachowski nel 99 matrix sempre 63 milioni poi il reload di 250 revolution altri 150 però matrix il primo era sempre 63 quindi possiamo proprio abbassarlo nel domano proprio abbassarlo il budget secondo me possiamo andare 50 50 45 meno soldi gli dai e più sono bravi a a fare le cose stai diventato santucci se lo sostituiscono questo è proprio santo c'è santo però però è un po' è un po' vera poi dipende dipende dai registi un po vera c'è a james cameron se no glieda i sordi quello te guarda e dice non faccio un caso se non c'ho i sordi le wachowski va bene toglierli secoli la tecnologia fanno dei numeri incredibili comunque sono fra i 45 e 50 pur io secondo me direi 50 così giusto perché le vogliamo beviamo gli 5 milioni in più sì sì giusto perché le vogliamo bene 50 chat 45 50 a fare nel condominio facciamo 50 da facciamo 50 ma sopra si la prima volta di noi su grande schermo prima di vedere un po più o meno simone dove è arrivato e quindi scoprirci inizialmente di questa piccola anteprima della locandina che poi concluderà nei prossimi giorni voglio chiedervi a ognuno di voi era meglio prima perché non adriano abbiamo effetto a giovanni un attimo come finito di parlare spazio tutto questo preambolo per dire che tutto no 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 allora con adriano in realtà adriano mi ha stupito perché per lui era meglio prima nel senso che ha detto guarda forse tutto sommato a me sarebbe piaciuto anche di più in generale quindi già come poi partire il sondaggio intanto il chat quindi se era meglio prima per la nostra chat tommaso visto che giovanni ha detto io credo due cose credo che se fosse stato uno spettacolo teatrale sarebbe stato meglio prima nel senso che era chiaramente una roba appunto cespiriana dell'uomo contro natura siamo nel cinema siamo in un cinema industriale all'interno del cinema industriale secondo questa virata che ha reso possibile fruire questo film per tutti quindi che non è stato un horror che apprezzavano un quarto della popolazione mentre come dire gli altri no gli ha dato quel boost in più ogni volta che noi mettiamo il genere pigliamo una roba che tu dici ma questo è un thriller sì però è un thriller con delle delle venature di altro vuoi dire ogni volta che facciamo gender bender si chiama il gergo di sceneggiatura il gender bender è un qualcosa che ci aiuta a produrre perché perché pensiamo fuori dalla scatola che il motivo per cui giurarsi parte così forte perché è un film per tutti che però è anche un film di genere quindi secondo me non era meglio prima al cinema no ma guarda io te lo ti dico perché noi in modo molto semplice mi ricordo proprio quando sono andata al cinema a vederlo perché ho quell'età per essere andata al cinema la prima volta del 93 a vederlo ero con mio padre e mia sorella io ero fomentati mio padre non gli frega un cazzo ci ha portato lì perché era io ero fomentatissimo e vedevo mia sorella che era divertita e terrorizzata allo stesso tempo e un sacco di ragazzi poi della mia età provavano più o meno la stessa cosa è quello che ha fatto giurarsi park negli anni ha dimostrato quello che per si percepiva in sala quel giorno cioè molti avevano un po paura un po timore perché appunto di base un horror però poi eri rapito da questi dinosauri da questa colonna sonora che era una roba perché la colonna sonora di cui non abbiamo parlato perché non ne abbiamo parlato john williams io sono stato in presenza alla filarmonica di berlino di john williams che dirigeva questa roba per due serie di fila dove la prima sera o pianto ragazzi stavo affogando dentro alla mascherina per quanto pianto quando è partito il tema di jurassic park stata una cosa no ma flexiamo lo è vabbè ragazzi sono sono esperienze di vita che vanno vanno condivise hai detto una cosa che è molto bella secondo me il fatto la scena col velociraptor diciamo di due ragazzini è esemplificata del fatto che in quel periodo per noi che eravamo adolescenti giovani giovanissimi diciamo non adolescenti giovanissimi in quel periodo ha rappresentato l'idea di un'avventura quindi comunque giovanissimi prometteva un'avventura sì un horror non ti promette un'avventura un survivalismo mentre l'avventura ti dà quella cosa in più loro vivevano una grande avventura esatto c'è con quella musica con quella roba eccetera proprio musicalmente è quello che fanno na 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 è quella roba lì cioè è in crescita in apertura è sempre bravissimo è sempre in crescere sempre c'ha i suoi momenti horror perché devono devi anche avere paura eccetera è una roba stupenda raga e non no non era meglio prima manco per il cazzo già ma nonno manco per il cazzo cioè nel senso quello che era prima è quello che poi alla fine hanno fatto cioè hanno preso tanti piccoli elementi di quello che tu ci hai raccontato questa sera e li hanno piazzati un po in giro nei vari film che hanno fatto dopo la bambina all'inizio per giustificare il ritorno a parlare giurassic park o comunque per costringere qualcuno a tornare sull'isola che era appunto coso come si chiama malcolm che non ci pensava nemmeno costretto a tornare sull'isola eccetera altre cose che hanno buttato nei terribili giurassic world quindi hanno preso degli elementi e li hanno sparsi un po in giro ma il primo è intoccabile secondo me il la cosa interessante ma che la più interessante di tutte a a fine di questa conversazione molto piacevole che abbiamo fatto è che in realtà la prima versione della scendiatura di giurassic park è la versione di giurassic world 2 che abbiamo visto per certi versi ci sono tantissimi elementi in comune da questo t-rex che prende l'elicottero lo strattona all'inizio del film come doveva essere il finale in realtà del dell'avventura di giurassic park di michael crayton oppure il fatto che c'erano questo c'era con questo combattimento sul tetto ad un certo punto con questi velociraptor che cercavano di scavare per riuscire a raggiungere i nostri protagonisti la stessa invasione di questo velociraptor alla fine di giurassic world 2 nel mondo e quindi nella nella vera e prova terra umana e quindi c'è proprio malcolm ormai invecchiato che dice benvenuti a giurassic world perché siamo arrivati in un momento in cui adesso i dinosauri si stanno appropriando della terra e quindi è molto e molto interessante come avendo letto la sceneggiatura di crayton mi sono reso conto che c'erano tantissimi elementi soprattutto nel secondo film di giurassic world quindi io e forse calcolando che giurati falla in king faceva cagare di quelle che mi accorcia da tanti dai domani vai vai no è che io vi parlo dalla dalla fine del mondo si direbbe nel senso che noi siamo noi proviamo a scrivere una bella cosa proviamo a fare un bel film alle voci sempre ci sono influenze editoriali tecniche problemi tecnici un attore che non un po all'ultimo un film è fatto di tante cose che non sono solo le intenzioni dello sceneggiatore dell'autore ed è interessante anche ogni tanto so che da cinepili uno gli viene voglia di dare così addosso con la mazza a chi ha fatto le cose dice ah no perché guarda quello come ha sbagliato alle volte i film migliorano cioè quello che stiamo vedendo in questo percorso è che i film alle volte migliorano grazie alle limitazioni tecniche del periodo ai cambi improvvisi all'influenza editoriale di qualcuno che arriva e cambia cioè non è detto e questo è un esempio lampante che anzi questo film probabilmente se fatto nella sua forma originaria sarebbe stato un film molto di micchia di parlato come di un cult invece sarebbe diventato un movie probabilmente una certa questo è cioè io adesso ho finito di scrivere una graphic novel una roba che non era mai successo che bello ma guarda questa è spesso sulla sedia adesso è una graphic novel per un editore sono contento sono tutto felice stavigli 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 aspettavo dire simone simone non urlare simone simone la stanno già illustrando che stai calmo se non dite niente a nessuno ve lo dico ma siamo in live 300 persone renzoni c'è stanno 300 persone cosa non dite niente a nessuno raffaele sorrentino lo illustra e che è un illustratore di bologna e l'editore ok perfetto no è un editore che si sta lanciando è un grande editore che si lancia nella graphic novel sarà una adesso sti cavoli non volevo parlare di questo volevo solo dire che si fa tanto lavoro ci parla se parlavo quando vuoi no si fa tanto lavoro ti dico che nella stessa collana sono quattro titoli c'è anche un altro che scrive le volte con martos via dicendo quindi ci sono degli autori vogliamo una copia il segreto no io in realtà poi tra l'altro mi farà piacere fare parlarvi nella scrittura di una graphic novel come funziona però per dire che quando si scrive qualcosa si va incontro a tutta una serie di limitazioni che sono del mezzo perché non ho mai scritto una graphic novel oppure quegli altri ci avevano i dinosauri che non si potevano fare non mi sto rapportando a loro però per dire che ricordiamoci e con queste live lo stiamo facendo e per questo sono importanti che poi si parte da un'idea da un progetto e da un da un qualcosa che uno c'ha c'ha l'investimento più grande del mondo nel farlo al meglio tutto ciò che interviene sono problematiche come quando si fa lo spettacolo teatrale che l'attore c'ha il raffreddore quel giorno alle volte producono un capolavoro altre volte no per questo diciamo chi non è cinepilo ma è anche autore tende a essere un po meno antipatico diciamo nei confronti di una roba che che non funziona perché poi è tanto dura vedi come si sta sciogliendo perché lo sa è tanto dura cercare di fare una roba buona metterci il cuore dentro e loro lo hanno fatto e quindi in qualche modo diciamo era meglio adesso ma anche perché adesso è quello che è esistito cioè nel senso di qualche modo le limitazioni in questo caso hanno prodotto qualcosa di migliore del progetto originale adesso ho finito al violino e quindi grazie tommaso è sempre è sempre un tremendo piacere simone che cosa cavolo sei riuscito a fare meglio prima per la chat o no fino a ora e sai che non lo so aspetta vediamo se è neanche giocoborio ha mandato il sondaggio ma mi pare che era no comunque se non ricordo male era no vediamo se simone ha vinto il no dice nicola io mi fido di nicola nicola dice ha vinto il no c'è ragione nicola quindi no ha vinto il no conferma giacomo bori e quindi gianni non era meglio prima simone cosa hai fatto finora lo possiamo tirare su non ho fatto nulla no scherzo eccolo bello kart russell allora dicevamo sorelle cuociosti quindi il vabbè il ponte dinosaurio se mi sbaglio l'ho scritto bene sì ma l'ho apprezzato le matrize però io logicamente regata un mega fan di giurassic park dal 95 è uscito nel 93 mio mi ricordo a due anni che crede qualche parte l'ho visto sto sicuro è stata una delle cose più belle del mondo io tuttora sono fan dei dinosauri c'ho tipo considerate considerate questo quando è uscito giurassic world 2015 se non mi sbaglio io ho fatto sta cosa sono andato da mi madre io adesso ho quasi 30 anni quindi diciamo 25 anni a quando è uscito io sono da mi madre io ho detto senti sta uscito giurassic world stiamo a andare al cinema a adesso devo andare adesso io mi ricordo mi sono ritrovato a parte che tremavo quando risente la colonna sonora estetico tremavo proprio di orc bravo e poi a un certo punto mi sono ritrovato uscito dal cinema tipo comunque molto pesante e quindi in un momento di drastic world 2 per quante ci siano le limitazioni per quanto è brutto comunque non mi riesce di vincere ma perché c'è stanno i dinosauri nel film originale cioè nella scendiatura originale a tutti e 300 dinosauri con la capacità che hanno fatto hanno fatto l'anno usato nei grassi park quello di spilberg che adesso ne conosciamo 300 ci fai vedere la parte sopra della roba andina eccolo e io praticamente ragazzi sono fan del t-rex da aspetta l'altro aspetta questa è la copertina mi posso permettere di faccio vedere gli storyboard prego prego brai allora a proposito del t-rex questa è la scena in cui lui aspetta simone li metto io perché ce li ho anche io quindi comunque quella copertina va a quando sarà finita simone la manderà giacomo poi sarà giacomo a far a farla avere in questo caso a brb 989 la copertina insieme a gli storyboard che adesso ci fa vedere gianni che sono questi eccoli qua questa è quella e sarebbe stata la scena finale quando il t-rex cercava di raggiungere alan e gli altri pochi sopravvissuti loro fuggivano c'era l'elicottero l'elicottero partiva il t-rex li inculava prendendo il gancio che serviva per l'atterrante c'era anche questo gnam molto che ho pensato molto simone devi sapere ma soprattutto ha fatto questa cosa pazzesca perché a me questa scena mi ricorda quest'altra scena di togliere il volume che è questa immaginatevi con la testa del t-rex però vedi benissimo vedi simone è che tu vuoi fare contento gianni ma in realtà l'acido è il t-rex gigantesco e nell'elicottero cioè dovevi mettere dei rock in fast and fuori su nostra non chiara sì no ma perché sono mega fan della marvel è un altro come faccio ma ha detto non mi ricorda cosa dai come fai un ma sono me non ne uscirò mai da questa roba una complicità loro non ne uscirò mai niente è impossibile e poi vi faccio vedere questi ultimi storyboard che sono quelli relativi alla bambina che viene mangiata dal velocità ora c'è lei che sta disegnando questa lucertola questa bambina è molto bella questa ha fatto anche molto grazie e quindi perché se il vero cilata ma si cazza guarda guarda adesso guarda adesso pronto bello è favoloso voglio mortacci tua tutta la vita bellissimo e c'è lui che mangia il piede della bambina e poi li va gli salta in faccia e li mangia bella anche questa questa città i bacini 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 e nulla abbiamo bene ragazzi detto questo noi abbiamo concluso era meglio prima giurasi park scritto da kripton o kripton niente no perché la mia testa ha registrato kripton e quindi ormai sarà così per tutta la mia fottutissima vita era meglio prima no avete deciso voi simone ha illustrato il video gianni ha fatto tutte le ricerche del caso tommaso sta qua perché perché tommaso renzoni ragazzi cioè meglio di lui che ci ci fa navigare nel mondo della sceneggiatura in maniera così pazzesca io ricordo ancora la live sul cortometraggio con tommaso che avete amato tutti e avete amato tutti quella live ancora arrivano wow ma la facciamo anche su tutto magari te prego magari va benissimo io vi ricordo che questo canale ritornerà attivo sabato da mezzogiorno in poi ci siamo io e gianni esatto ci siamo io e gianni studio in collegamento con marco cioni che starà sul set del nostro cortometraggio che si chiama nostos scritto appunto da tommaso di cui in cui gli storyboard se ne è occupato simone vignoni regia di mauro zingarelli prodotto da slim dogs dall'altra parte è troppo vecchio renzoni per fargli fare questa cosa no no quasi no quasi ecco questo detto questo vi ricordo appunto a sabato a mezzogiorno prima fino alle 4 del pomeriggio e domenica stessa cosa e basta e che dio ce la mandi buona dice crash andrà sicuramente bene ne siamo troppo convinti volete meno allora cieli che mi chiede se vogliamo vedere la puntata dei ferragnez gianni ma tu te l'accolli dai o me l'accollo sono troppo curioso una però perché poi devo andare a dormire va bene io vado sul mio canale con gianni a vedere una puntata la prima puntata dei ferragnez ragazzi domani pomeriggio niente editing no ragazzi che ne dica marco cioni domani pomeriggio o tre cose da fare contemporaneamente quindi domani niente editing in chill ci vediamo sabato e domenica giacomo borie si sta mettendo le mani nei capelli che non ha ma già domani pomeriggio niente editing in chill mi dispiace ragazzi ci vediamo direttamente sabato a mezzogiorno basta io vado in canale ragazzi grazie tommaso grazie simone grazie a voi ragazzi e ciao grazie di averci seguito a presto ciao venite a vedere ferragnez ciao ciao a tutti a vedere ferragnez esatto ciao